Una piccola expo all'Aquila che interesserà la città dal 29 maggio sino al 2 giugno e che avrà una location nuova, individuata nell'area esterna del Terminal Natale di Colle Maggio, con possibilità di usare i 700 parcheggi a disposizione. Questo sarà Made in L'Aquila, con Made che sta per musica, artigianato, degustazione e denogastronomia, circa 70 stand e mille posti a sedere, con prevalenza di artigiani e commercianti locali, che da lunedì potranno rivolgersi direttamente alla sede di Join Action, che organizza l'evento in partnership con Confartigianato Chia di L'Aquila, che avrà uno spazio stabile all'interno del mega parcheggio. Sarà la prima di cinque edizioni, una sorta di esperimento, come ha spiegato Andrea Di Mario dell'Associazione di Promozione Sociale. L'evento è autofinanziato, sarà Join Action, che troverà gli sponsor. Una sorta di expo, possiamo definirlo così? Sì, nasce sulla falsariga proprio dell'Expo di Milano, dei quali siamo orgogliosi di aver copiato il target, per un motivo, sono ben organizzati e quindi ci rendono facile la strutturazione dell'evento. Soprattutto portare turisti e portare gente all'Aquila, una città che ha bisogno di rinascere, una città che ha bisogno di turismo, ma di turismo vero, non quello che viene solo esclusivamente a visitare le rovine dell'ormai evento che ci ha colpiti. Penso che sia proprio il trampolino di lancio per rilanciare l'Aquila verso il turismo concreto, quello che veramente porta economia all'Aquila. Per l'assessore al commercio Piccinini è un progetto importante, una formula moderna in cui si è pensato all'uso del mega parcheggio per avere una location diversa, con una viabilità già efficace che possa essere accessibile a tutti. Molto importante è anche il ruolo di collaborazione di Confartigianato Chiedi L'Aquila, grazie al presidente Francesco Angelozzi e al vice direttore generale Pierluigi Arduini. Siamo sempre pronti, hanno detto, a sostenere iniziative legate allo sviluppo dell'Aquila. Per Mauro Santilli dell'MP Parcheggi, che gestisce il terminal, dopo le travagliate vicende che hanno visto protagonista il mega parcheggio, si tratta di un'occasione unica per rilanciare l'area, considerando anche il percorso positivo che si sta facendo con l'attuale amministrazione comunale. Oggi finalmente si arriva alla realizzazione di questo progetto, che peraltro è un progetto importante, anche con un investimento significativo alle spalle. È un progetto che a me entusiasma, soprattutto perché coinvolge categorie merceologiche diverse dai soliti e semplici food, anche gli artigiani a cui tengo in modo particolare. Per cui è sicuramente un altro tassello che si aggiunge a quello che è un percorso lungo. Grazie. Grazie.